. Dopo gli insulti, le minacce e gli scontri quasi fisici avvenuti all'interno della casa più spiata d'Italia tra due concorrenti del grande fratello, Bai e Deymi Aida Nezar, è intervenuta Barbara D'Urso. La conduttrice del reality ha comunicato nel corso di pomeriggio 5 di ritenere inaccettabile la violenza verbale, quasi fisica, che Bai e Deymi ha tenuto nei confronti di Aida. Ieri ho chiesto al grande fratello di prendere provvedimenti molto molto seri che verranno presto comunicati, perché io non ci sto, ha dichiarato la conduttrice Barbara D'Urso. Al momento non si sa ancora nulla in merito all'entità delle decisioni prese dalla produzione delle reality che potrebbero riguardare non solo Bai, ma anche tutti i concorrenti coinvolti nella liti contro Aida.fotocredits Facebook. Videocredits pomeriggio 5 bit.li barra 2 hxrqld felicitazioni alla famiglia reale. src uguale htps barra barra spuntento risultato 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 risultato